Bucare o aggirare la montagna di Mignano-Montelungo per arrivare, passando per la variante di Venafro, più velocemente e comodamente sulla 1 che permette di raggiungere Napoli e Roma. Se ne parla da tempo e da tempo i murisani attendono risposte. A chiedere l'UMI al Vice Ministro delle Infrastrutture è stato l'Onorevole Antonio Federico. Questo era sostanzialmente il senso del mio question time in Commissione Ambiente l'altro giorno in cui il Vice Ministro Morelli dell'Infrastrutture mi ha risposto proprio questo. Ha detto che c'è uno studio di fattibilità tecnico-economico a valere di 100 milioni di euro sulla programmazione FSC per realizzare il primo stralcio di questo collegamento tra la variante di Venafro e l'autostrada A1 che sarebbe una soluzione che da un punto di vista strategico risolverebbe grossi problemi al Molise sia per quanto riguarda l'isolamento sia per quanto riguarda l'inquinamento della piana di Venafro perché andremo a liberare dal traffico pesante il centro urbano di Venafro che significa meno NOx. I tempi sembrano essere maturi per arrivare ad una conclusione ad agosto i risultati dello studio di fattibilità, poi l'eventuale progetto preliminare, il definitivo, l'esecutivo. Ad agosto il Vice Ministro ha detto che ci sarà l'esito di questo studio di fattibilità tecnico-economica per confermare il finanziamento, trovare i soldi per completare l'opera e arrivare quindi sull'autostrada e avere un cronoprogramma certo per la progettazione e poi la realizzazione. Un primo passo, quello dell'approdo veloce sulla A1 di un lungo cammino che punta a collegare la A1 con la A14 attraversando la regione, un sogno che si spera non resti una chimera. Un passaggio importante veniva proprio dal Governo Conte II in cui abbiamo fatto un fondo di perequazione di 4,6 miliardi di euro per la perequazione infrastrutturale, fondo che abbiamo salvato anche con un mio emendamento nel decreto semplificazione a giugno, salvando l'idea che le aree interne, il mezzogiorno e le aree al spopolamento potessero avere il maggior numero di risorse, tant'è che poi l'80% di tutte queste risorse vanno per queste aree, grazie a quel concetto della perequazione infrastrutturale e proprio in quell'occasione ho chiesto al Governo, il Governo mi ha dato l'ok, di rendere strategica l'opera che collega la A1 e la A14 attraversando la regione molise. Quindi c'è l'impegno, c'è la volontà, le risorse ci sono, aspettiamo agosto per lo studio di fattibilità e andiamo avanti con la certezza di avere il Governo che sta guardando con attenzione il nostro territorio. Grazie a tutti.